Si chiama MySir App ed è la prima applicazione per iPhone e smartphone sulla raccolta differenziata. Si tratta di una guida assistita in grado di fornire informazioni dettagliate sul rifiuto, in che busta buttarlo e quando, e anche quando l'applicazione chiusa attraverso una notifica informa qual è la tipologia di rifiuto da conferire in giornata. MySir diventa anche un nuovo grande fratello, poiché consentirà ai cittadini di Baronissi di fotografare sacchetti fuorilegge, ovvero non allineati al calendario di conferimento, e di inviare l'immagine direttamente al sistema centrale del comune, attivando in tempo reale l'accertamento della polizia municipale. Il primo lancio sperimentale di questo applicativo, sviluppato da Microambiente di Salerno, sarà il comune di Baronissi ad effettuarlo nei primi giorni di novembre. A darne notizie è stato l'assessore all'ambiente Alfonso Farina. È un sistema innovativo e sino ad oggi mai utilizzato, ha detto Farina, che risponde poi alle moderne logiche di aggiornamento in tempo reale attraverso l'utilizzo dell'iPhone. L'applicazione sarà scaricabile gratuitamente ed avrà molteplici funzioni. Si tratta in pratica di una guida assistita per l'utente e un valido memo giornaliero. Una volta lanciata sarà possibile sapere in quale sacco andrà conferito il rifiuto, ma soprattutto sarà anche un sistema di sentinella per il territorio, perché avrà modo di inviare segnalazioni fotografiche di rifiuti conferiti non correttamente alla polizia municipale. L'applicativo nel sistema della raccolta differenziata di Baronissi andrà ad integrarsi con le altre modalità già esistenti, implementando l'uso dei software per la gestione dei rifiuti. I dati forniti questa mattina nel corso di un meeting dei virtuosi ha riguardato soprattutto la raccolta di imballaggi carta e cartone. Grazie all'impegno delle famiglie e a un sistema efficiente per la corretta gestione dei rifiuti, ogni città può infatti ottenere ottimi risultati nella raccolta differenziata di carta e cartone anche in Campania. Prova ne sono i comuni aderenti al Club degli Eco Campioni, che Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi Cellulosici, ha ideato per mettere in rete le esperienze delle amministrazioni più virtuose, creando modelli di buone pratiche. Di sicura questa applicazione Maiser del Comune di Baronissi è un'innovazione straordinaria, davvero incredibile, sul nostro territorio.